Due giovani disoccupati sono stati sorpresi dai carabinieri della stazione di Mazzarino mentre erano intenti a caricare 70 quintali di travi di ferro asportate poco prima a una serra. A finire nei guai per il reato di furto aggravato il 31enne Alberto Saverino e il 24enne Marcello Catrini. Le immediate indagini dei carabinieri hanno in breve tempo consentito di accertare che il ferro rubato era stato preventivamente acquistato dalla trentenne Maria Valentina Lobartolo, titolare di una ditta di demolizioni. Circostanza questa che ne ha determinato il deferimento a piede libero per il reato di ricettazione. Gli arrestati sono stati condotti nelle loro rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.